Cioè io porto a Barbara l'acquario. Gli piacerebbe tanto. Ce la portiamo? Quanto sei bella tu. Fai quasi paura. Sembra uscita dalla foresta. Ma sei sicura di essere una donna e non un lupo? Sì, sì, sono una donna. Adesso pure scema. Tu ci staresti benissimo in Africa. Lì senti la vita. Non come sta palude dove viviamo tutti. Siamo tutti bugiardi qua. Beh, la frega che c'hanno dei capelli che manco li puoi lavorare. Io come sono come parrucchiere? No, ma mica è facile mettere le mani in testa alla gente. Che te credi? Cioè in testa ci passa tutto. Ci passano i pensieri. E bucì. Sì. Grazie.